L'ambasciatore del Bangladesh in visita all'impianto a recupero integrale zero spreco di Aise Impianti a San Zeno. Dopo la visita delle scorse settimane di una rappresentanza della comunità bengalese e aretina, adesso è stata infatti la volta del diplomatico per conoscere il funzionamento dell'impianto e rinsaldare i legami tra la numerosa ed integrata comunità bengalese e il territorio aretino. Il mese scorso che siamo venuti qua, la comunità bengalese, abbiamo visto questo progetto. Poi questo progetto abbiamo parlato con l'ambasciatore, anche lui interessato per il nostro paese, per Bangladesh, per vedere come sta facendo tutte le cose che non si butta via da qui. Sì, nasce anche elettricità, nasce gas, nasce acqua calda, che noi vogliamo imparare questa cosa, vogliamo sapere diverse informazioni da qua e si parla, è venuto lui interessato per parlare, per sapere più. Ricevere la visita di un ambasciatore è molto importante per questa realtà, perché è una realtà a questo punto vista un pochino su scala molto più ampia rispetto a quella che conoscevamo prima. È un momento anche di grande soddisfazione per il lavoro che i miei colleghi hanno saputo fare diligentemente in questa realtà che oggi può vantare più linee di recupero energetico e più linee di produzione, quindi anche la capacità di differenziarsi come azienda, non vocata al solo smaltimento, ma anche vocata ad aprirsi a un mercato più ampio.